fammi esplorare se non cado dentro ragazzi almeno questa è pulita ma pulita bene anche guarda che cosa si è fatto qua ma cazzarola questa però è fonda vero passaggio da leoni questo qua non ci passano neanche i leoni mi spiace ma penso proprio che guarda che spettacolo ma pensa che ho piattaforma del tuffo ma però però chiudendola bene sempre che quando passi non ti cade la sua lasciata qua si potrebbe anche pensarci sempliceggio porcazza bene passaggini da filotoni altro che dai da qua in poi ma qua in poi si può fare lì diventa che ci passi il manubrio e basta qua invece non ci passi proprio figaro che basello ma bisogna buttarli giù arrivare qua e uscire da qua dove c'è il termine in modo che la raccordiamo fino a qua bisogna iniziare da qua iniziare da qua e andare in giù si può pensarla tutta per chi non la vuole fare si può fare il passaggio esterno la verde e la rossa o la blu che sia dai dai qua si può passare anche sopra di lì si può passare forse è solo un po' tutto da ripulire anche questo è un bel passaggino ok 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 mincharella da uomini duri qua altro che palle ma duri duri anche durissimi questo è un passaggio che gli piace al barbarezzo ma che passaggino ah però come si dice incontaminato come se dice incontaminato